Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Minecraft Dungeons per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo completato un'altra missione della modalità storia Dovevamo praticamente cercare un tempio nel deserto Oggi direi di proseguire la nostra avventura su questo videogame Come sempre prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video Perché potete trovare tanti link utili se siete interessati ad acquistare questo videogame Se volete comprarlo in digitale vi consiglio di acquistarlo su Instant Gaming come ho fatto io Trovate anche in questo caso il link in descrizione Allora, dopo questa brevissima intro direi di andare a selezionare una missione Abbiamo completato il Canyon Cacti Possiamo decidere di visitare i pascoli di zucca oppure la palude umidiccia Direi di partire per la palude umidiccia Livello di difficoltà Facciamo Normale 3 Ed eccoci qua Ok, nessun problema Faremo il mazzo a tutti quanti Allora Trova i preparati Ah, magari dobbiamo distruggere le varie pozioni Ci sono già dei nemici qui sotto No, ho sbagliato Quando ho la La dinamite mi conviene Aspettare prima di utilizzare l'arco Ok, eliminato Quelle lì sono le anime Questi pallini qua, mi sa Facciamo che andare da questa parte Tutti sti mini zombie Ciao, venite qua, va Voglio poi provare a utilizzare il manufatto che ho in B Ok Eh, ma siete troppo scarsi per me ormai Cioè, a meno che non ne becco magari mezzo milione di questi qua Ah, non ci si può infilare nella palude Avete visto Sento le streghe Conviene colpirle dalla distanza Perché di solito Nel gioco base Ti lanciano addosso degli incantesimi Oh, si rivedono i ragni Incredibile Eh, vedete Vedete Ok, ho finito le frecce Vieni qua Ragniaccio Eh, è il momento Giusto per usare questo Che spettacolo È una specie di raggio laser Oh mio dio, che macello Ok Eliminato La freccia ci dice di andare a destra Volevo vedere se c'era qualcosa qua a sinistra Ma non c'è Un fico Secco Ah, magari prima avevo Equipaggiato Il razzo Senza rendermene conto Aia Che male Ah, per il momento Questi avversari Li possiamo affrontare così Non mi sembrano pericolosi Ok, ho distrutto la prima pozione Ce ne sono cinque in zona È meglio andare via No, perché sto per morire Ne arriva uno Vai lama Bravissimo Vieni con me Ah no Si fa un po' i fatti suoi Va bene Ah ok No, mi segue Infatti mi sembrava strano Via 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 Che macello Attenzione Che non ho più Punti salute Mamma mia È pieno di streghe Ah no Non posso utilizzarlo Attraverso il muro Mi sono saltato Praticamente addosso Oh, finalmente Delle frecce Un altro preparato Andato Brutta strega Ecco qua L'abbiamo fatta saltare Altro preparato Andato Ciao, vediamo cosa regalano Questi slimer Questi slime Vieni qua Amico Non sono pericolosi Solo nella miniera Mi avevano creato Qualche problema Però per il resto Nulla di che Ah, ma possiamo andare Anche da questa parte C'è un cancello Bloccato Grande il mio lama Sta dando Un sacco di Fastidio Agli slime Più che altro Fa fuori Quelli piccolini Ok, ho trovato Anche l'ultimo Andato Trova il calderone Ehi, non ci pensare Uh, qui cosa c'è Non c'è Un fico secco Allora, andiamo Da questa parte Perché finalmente Possiamo attraversare Il cancello Eccoci qua Vabbè, facciamo fuori Tutti Gli scheletri Prima Anzi, ho fatto fuori Tutti quanti Alla fin fine Ok, siamo entrati Dentro questa Specie di caverna Dovremmo andare Da quella parte Ma noi invece Prima andiamo Da quest'altra E non c'è niente Da questa parte Qui c'era Un brutto Creeper Uh Una chest Cos'è quella? No, vabbè Ma la voglio provare Subito Gran tormento Ah, non è molto veloce Danni extra E non morti No, no Voglio utilizzare questa E Eco Alcuni suoi attacchi Possono essere seguiti Da un altro attacco In rapida successione Sanquisuga Vai con questo La voglio provare subito Meno male che sono Passato da questa parte Ehi maialino Vieni qua Guarda quanta roba Balestra A dispersione 17x3 Danni a distanza Proiettili multipli Vai con questo Colpo Colpo fulgore 20% di possibilità Di generare un'area Circolare In grado di curare Tutti gli alleati Non mi interessa Rabbia selvaggia Potenza Ah no Non posso far niente Vabbè L'enderman Ah, stiamo attenti Attenzione Attenzione All'enderman Dove sei Enderman Guardate quanta vita Gli tolgo Beh alla fine Non è neanche un avversario Tanto Difficile Da abbattere Abbiamo raccolto Dei pugnali Però Nooo Mi hanno ucciso Lama Dobbiamo aspettare Che rinasca Due slime Sì ma che male Che gli faccio Sì ci metto Una vita e mezza A buttarli giù Tutti però Sento odore Di calderone Passiamo prima Sopra va Una pozione Pericolosa Lo voglio chiamare Giorgi Questo lama Dovremmo essere Arrivati Forse Ma Sì stiamo andando Dalla parte giusta Aiaiaiaiai Che male Guarda sti qui Quando sono in difficoltà Tirano fuori la pozione Per recuperare Punti salute Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Quindi se vado ad abbattere qualcuno Riesco a recuperare Un po' di vita Eeeh che raduno Eeeh Abbiamo fatto fuori tutti quanti Qui ci sono le varie case delle streghe Poi Altri zombie da quella parte Anime venite qua Che così posso utilizzare quel mega raggio laser Dovremmo essere quasi arrivati in teoria Altre frecce grazie Scorte Finalmente Vieni Giorgi Weila Salve bella gente No 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 Giorgi Dobbiamo salvarlo Nooo me l'hanno abbattuto Eeeh madò voi Preso Vieni qua Una chest Eeeh guardate che chest Cosa Caspita ho trovato A parte è un nemico che Era lì dentro Vai che saltano Ottimo Totem della rigenerazione Un totem che crea un'area circolare E cura te i tuoi alleati Ah Me lo tengo lì In caso di emergenza Faccio che Utilizzarlo al posto di uno dei Tre manufatti che sto utilizzando adesso Aia Via Giorgi Giorgi vieni Non andare da solo eh Mi raccomando Vieni qua Così ci muoviamo Più velocemente Potevo tranquillamente Impostare un livello Di difficoltà più alto Perché sto Abbattendo nemici Come se non ci fosse Un domani Praticamente Andiamo Ok E' sparita la musica Attenzione Boss fight Distruggi il calderone Eh vabbè E' pieno di nemici Ci sono anche questi slime Cosa caspita Ho visto E questi slime qua Viola Che danni Che fanno Ah Accidenti Mi hanno fatto sprecare Sì ma E' impressionante Sponono fuori Ogni 3x2 Vai Giorgi Resisti E' veramente Impressionante Ragazzi Accidenti Accidenti No 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 Che pelo Meno male Che avevo detto No no Ma questo livello Di difficoltà qua Forse è troppo basso Eh già Vieni vieni Giorgi Aspettiamo un attimo Perché ho la pozione Che si sta Uh Sono in fin di vita Sono in fin di vita No non posso rischiare Devo aspettare un attimo Accidenti Accidenti Dai Non ci credo E' tosta Ah però Attenzione Il calderone Non ha Recuperato Punti salute Dai che è quasi andato Mi conviene Mi conviene Sfruttare La potenza Di quest'arma Dai ancora un colpo Ce l'ho fatta Va bene dai Ho Fatto che Sfruttare una delle Tre vite a disposizione Per Abbattere il calderone Ah Finisce così Ok Grazie Ok Eccolo qua Riepilogo di missione Apriamo la chest Sono morto una volta ma Ci poteva anche stare Mietitore Il mietitore assorbe le anime dei defunti Prima di rilasciarle Sotto forma di una maledizione A grappolo di energia Ok Ragazzi siamo tornati qua Livello 12 Potenza 11 Ho trovato la veste Dell'evocazione Più 66 Di salute Meno 25% Di recupero Dei manufatti Più 15% Aura Di velocità Di movimento Potrei utilizzare Questo Anche l'arco Potrei cambiarlo Arco da caccia Vediamo cosa posso Potenziare Pie veloce Palla di neve Sinergia di salute Quando attivi un manufatto Qualsiasi ottieni di nuovo Un po' di salute Deviazione Ma non mi piace Preferisco Quest'armatura qua Invece quest'arco Cos'è che fa? Colpo Fulgore Colpo Multiplo Tiro bonus Colpo Multiplo Vai così Allora Direi che possiamo Terminare Questo nuovo episodio Di minecraft Dungeons Qua Ragazzi Spero come sempre Che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su minecraft Dungeons Alla prossima Ragazzi B Grazie a tutti